Il progetto è un progetto patrocinato da ActionAid e atto a sensibilizzare riguardo la cultura e i mezzi che si debbono dare alle persone che sono purtroppo disagiate o comunque bisognose e hanno chiamato i ragazzi di ActionAid, quattro interpreti per poter documentare e fare una mini webserie atto appunto a sensibilizzare la massa e magari con qualche aiuto non si vanno a dare dei beni di prima necessità come il cibo ma istruzione che è molto più importante e più duratura. Io sono finito in Kenya e altre persone, c'erano Giorgio Surina, Marco Forrest, Marco Del Vecchio sono finiti in altre parti del mondo e abbiamo fatto questa mini webserie che appunto documenta la nostra esperienza e la mia in particolare è quella di Cuoco a disposizione dei ragazzi di un villaggio nell'entroterra del Kenya e ho messo a disposizione la mia arte per far sì che loro possano cucinare anche con i pochi mezzi che hanno a disposizione. Ma io ricopendomi faccio sempre cagare, però devo essere onesto, sono molto orgoglioso della terza serie e credo che chiuda un percorso in maniera intensa e tutti quanti, il sottoscritto, la squadra che mi ha accompagnato sul campo chi è stato a casa a sistemare quello che avevamo prodotto e il canale siamo migliorati e cresciuti nel corso di questi due anni e mezzo quindi sì, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Il canale mi ha chiesto sostegno da parte per il rugby e quindi credo che in qualche maniera dobbiamo ancora capire come verrò coinvolto nel 6 nazioni. Per quanto riguarda altri progetti non mi è ancora stato comunicato cosa sarà fatto o mi verrà dato in mano nel 2016, però siamo in fase di lavorazione sia per contenuti che riguardino la cucina sia che riguardino altre tematiche che però non mi brucio adesso perché non so se andranno in porto. Ciao a tutti ragazzi di TV Zoom